Sono 2.590 i nuclei familiari del Comune di Pescara beneficiari del reddito di cittadinanza e 255 i percettori del sussidio impiegati dall'amministrazione per svolgere attività di vigilanza, antidegrado e più in generale progetti utili alla collettività, i cosiddetti PUC. In questi giorni, nel capoluogo adriatico, il servizio di pulizia e vigilanza urbana si è ampliato con l'impiego di altri 12 percettori del reddito di cittadinanza chiamati a svolgere servizi antidegrado nella zona centrale che va dal lungomare nord fino a Corso Umberto, Corso Vittorio e Via Venezia con squadre impegnate dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Dal 1 dicembre il servizio sarà esteso fino a Via De Amicis per poi passare anche ai quartieri periferici della città come spiega Adel Chisulpizio, assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara. Nello specifico quali saranno le attività svolte? Questo è un servizio innovativo, per la prima volta andiamo anche ad intervenire in questo momento abbiamo 255 percettori del reddito di cittadinanza che svolgono servizi in favore del Comune di Pescara in questo contesto abbiamo preso le aree centrali della nostra città le abbiamo diviso in quattro zone, ogni zona ci avrà due PUC come li chiamiamo noi, che svolgeranno questo servizio di pulizia ed antidegrado significa sia intervenire in questo contesto pulendo per esempio la strada e sia pulendo le panchine, anche intervenendo sulla rimozione delle defezioni canine ad esempio e dall'altra parte invece avremo anche un controllo, una verifica quindi andranno a verificare e comunicare all'attività preposta e qualora dovessero riscontrare che ci sono stati degli atti che possono aver cagionato, in questo caso un'attività di degrado nei confronti del Comune, è un servizio che come precisato non va a sostituire l'attività di pulizia che il Comune fa all'interno delle zone ma un'attività di supporto e di miglioramento e soprattutto un'attività con la quale noi andiamo a migliorare sensibilmente l'attività di pulizia nelle zone centrali della nostra città Oggi si parla del centro ma il servizio sarà ampliato anche alle zone di periferia? Sì, questo servizio è già partito da qualche giorno abbiamo anche voluto riscontrarlo perché poi si tratta, come dicevo prima, delle attività che prima non si svolge bisogna anche capire come funziona o non si funziona e devo dire che anche gli input che vediamo ai cittadini sono estremamente positivi ci stanno chiedendo di integrare questo servizio anche in altre aree della nostra città calcolate che noi in questo momento utilizziamo 250% di cittadinanza e sono veramente tanti la volontà però di questa amministrazione è di non firmarci e da qui alle prossime settimane annunceremo altri servizi che stanno nascendo proprio in questi giorni